ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei focalizzare la vostra attenzione sugli investimenti in materia di mobilità sostenibile ho selezionato infatti per voi un etf che va ad investire proprio su questo settore ma prima di iniziare ragazzi come sempre vi ricordo di lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti questi video non hanno sponsorizzazioni quindi l'unico favore che vi chiedo è proprio questo ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire qual è il prodotto finanziario che fa al caso nostro allora ragazzi innanzitutto c'è da dire che questo etf della lixor un noto una nota agenzia è una società di investimenti che propone etf per andare a settorializzare i propri investimenti su un basket di azioni quindi su una cesta che comprende più aziende vediamo qual è questo etf allora ragazzi l'etf è questo qui il lixor che ha un patrimonio di 132 milioni di euro un ter quindi un costo dello 0 15 per cento e abbiamo l'isin che è questo qui lo potete acquistare su xetra quindi su banca tedesca tramite il vostro broker o la vostra banca ragazzi ci tengo a fare una precisazione sicuramente il patrimonio come avrete potuto vedere non è molto molto grande però è comunque superiori ai 100 milioni di euro quindi io direi che per una nicchia di mercato è un patrimonio dell'etf già abbastanza sostanzioso considerate che è una nicchia di mercato che si sta sviluppando nell'ultimo periodo quindi è normale che all'inizio ci sia ci siano dei prodotti finanziari non capitalizzati come magari etf che investono sugli stati uniti o sullo stocks europeo quindi detto questo vediamo esattamente qual è la performance passata se scorriamo la pagina di lixor io sono proprio sul sito di lixor e ragazzi io vi invito come sempre ad andare a guardare in autonomia questi dati nel dettaglio proprio per capire quali sono i punti focali di questo etf in questo video li vedremo sommariamente vi dirò le notizie più importanti che dovete sapere qui potete vedere le performance passate ovviamente potete stabilire il vostro intervallo temporale ad un mese o a tre mesi o a sei mesi per capire in funzione del della vostra in funzione di quello che volete sapere qual è stato il ritorno medio per l'etf quindi fatto questo possiamo proseguire e vediamo la performance cumulata ovviamente ragazzi come potete vedere questo è un indice nuovo quindi non ha un etf nuovo quindi non ha performance a tre anni o a cinque anni ma questo non ci deve spaventare perché è normale come vi ho già detto in ad inizio video che questo tipo di settori che è in che sono in ascesa abbiano delle performance storiche un po più brevi però come potete vedere nell'ultimo anno quindi dalla creazione delle tf abbiamo ottenuto un 90 per cento di ritorno sull'investimento chiaro è che questa percentuale va a considerare anche il calo che c'è stato l'anno scorso e quindi la percentuale di guadagno maggiore non ci possiamo certamente aspettare ritorni del 90 per cento annui perché sarebbe improponibile però questo settore può magari aiutarvi ad aumentare la percentuale di ritorno sul vostro portafoglio poi abbiamo queste si aggiorneranno col passare del tempo le performance per anno solare le performance year to year quindi da anno ad anno poi abbiamo nav storica e dividendi però questo dividendo non è pagato agli investitori perché l'etf è ad accumulazione infatti come potete leggere nel titolo abbiamo il lixor msc future mobility esg filtered uchitz etf accumulazione vediamo quali sono i titoli principali in portafoglio infatti i dieci principali componenti sono praticamente nvidia corp avis advanced micro devices johnson metti western areas rider system melexis hunt trans iv energy e shanghai putai lai new ener quindi sono tutte aziende che stanno investendo in mobilità sostenibile quindi mobilità green con energie alternative andiamo avanti e vediamo quali sono le informazioni sull'indice il nome ve l'ho già detto ovviamente questo è l'indice di riferimento che a cui fa capo tutto l'acquisto di azioni da parte dell'etf potete vedere il rendimento da dividendo è circa lo 0 92 per cento perché ragazzi considerate che questi prodotti finanziari sono prodotti che vanno ad investire in settori a nuovi e quindi è normale che il rendimento da dividendo sia più basso questo perché perché l'azienda preferisce reinvestire gran parte dei suoi profitti nei primi anni in cui si sviluppa una nuova un nuovo tema di investimento piuttosto che distribuire utili agli azionisti e questo è positivo perché vuol dire che il settore è in ascesa nel momento in cui invece i dividendi vengono pagati in percentuali più alte vuol dire che siamo già nella fase di top del settore e quindi le aziende corrispondono agli azionisti dividendi più alti andiamo avanti vediamo che altri dati ci sono abbiamo la scomposizione dell'indice per valute abbiamo dollaro statunitense al 43 per cento euro al 10 per cento yen giapponese al 10 per cento yuan cinese al 7 per cento e poi a seguire sterlina dollaro canadese dollaro australiano eccetera eccetera la scomposizione settoriale abbiamo beni voluttuari per il 28 per cento industria per il 28 per cento information technology 21 materiali 18 per cento e poi altri altre percentuali più piccole per beni di prima necessità e finanza qui potete vedere anche la scomposizione geografica che fa capo al 39 per cento agli stati uniti al 14 per cento cina 10 per cento giappone e poi a seguire altri paesi europei o comunque paesi sviluppati andando ancora a scendere vediamo le caratteristiche principali del fondo come abbiamo detto è ucits sì quindi significa che è regolamentato da parte delle autorità europee l'isin è questo che vedete qui in alto vi invito a copiarlo se volete cercare l'etf la valuta del fondo è dollaro statunitense il patrimonio l'abbiamo già visto così come anche il ter la politica di distribuzione e capitalizzazione significa accumulazione non vi saranno pagati i dividendi il domicilio del fondo è in lussemburgo la metodologia diretta di replica è fisica quindi significa che l'alixor andrà materialmente ad acquistare tutte le aziende che sono presenti all'interno del benchmark che vi ho detto prima il l'indice di riferimento non abbiamo prestito titoli la abbiamo inoltre una data di istituzione del fondo 10 marzo 2020 quindi è un fondo che è presente da oltre un anno andiamo avanti ragazzi possiamo vedere informazioni di quotazioni su borsa italiana quindi potete acquistarlo anche su borsa italiana e andando ancora avanti possiamo vedere i documenti di riferimento che ci possiamo studiare per quanto riguarda questo fondo quindi il prospetto il kid il report annuale le sg e le informazioni relative alla sostenibilità io qui vi faccio vedere per semplicità sempre molto brevemente il kid proprio perché qui trovate i dettagli di riferimento di tutto quello che vi ho detto ora condensati però con particolare riferimento alla parte di sostenibilità quindi potete andarlo a studiare se masticate un po d'inglese potete sicuramente trovare tutte le informazioni utili che vi consentono di investire in maniera consapevole in questo prodotto finanziario c'è le sg score abbiamo ovviamente varie classificazioni a seconda di tutto quello che ci riportano queste tabelle ovviamente non ho il tempo materiale per analizzare con voi tutti questi dati perché altrimenti il video sarebbe troppo lungo ma studiatevelo con calma abbiamo le esposizioni le esposizioni e i trend del mercato le attività di business da parte delle aziende che fanno parte di questo paniere abbiamo l'esposizione ovviamente anche ai settori da parte delle aziende e così via tanti altri dati che potete andare a confrontare da voi per appunto avere un'idea più chiara di quello che fa il fondo questo tf questo fondo di investimento quindi ragazzi detto questo io vi comunque dico che non sono un consulente finanziario quindi fate sempre le vostre analisi prima di investire vi chiedo un commento un like l'iscrizione al canale e di attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti